Direttore Francesco Puzzani, Banca di Asti, Piazza Cittadella Verona, grazie di ospitarci per la presentazione ufficiale di Leandro Mosca, campione del mondo e nuovo acquisto della UiDiU Verona. Con Banca di Asti UiDiU Verona fa una partnership, un accordo che è bello che tu ci racconti perché riguarda sicuramente tutti i nostri tifosi che possono venire a vederci con delle particolari condizioni favorevoli, grazie a voi, ma anche una parte del settore giovanile su cui so che tu tieni molto. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, benvenuti in Banca di Asti, è un piacere ospitarvi, ospitare la Serie A di Verona di pallavolo maschile, è un piacere ospitare una medaglia d'oro, campione del mondo, anzi è un onore. Sì, Banca di Asti interviene con una partnership, secondo me, secondo noi molto importante, soprattutto a livello sociale, in questo momento particolare in cui le famiglie hanno bisogno di un po' di supporto da parte degli enti, delle istituzioni e da chi può supportarli. Noi interveniamo con due azioni, principalmente chi è cliente in Banca di Asti può sottoscrivere tutti gli abbonamenti nei vari settori con una scontistica applicata del 50%, quindi assolutamente una promozione di favore per chi vuole andare a vedere queste splendide partite di quest'anno, e il secondo intervento invece sul settore giovanile, dove sempre l'istituto Banca di Asti interviene con una scontistica del 50% alle famiglie che iscrivono uno o più figli nel settore giovanile, quindi chi è cliente da noi può accedere a questa tipologia di sconto. Ed è bello, diciamo, che questa attenzione nei confronti del settore giovanile, anche perché poi magari il nostro direttore sportivo, nella presentazione del nostro campione del mondo, può farne un accenno, è un settore su cui la società investe molto, sia dal punto di vista dei programmi, sia dal punto di vista proprio dell'offerta che dà alla città, perché si parte dal mini volley e si arriva all'under 19, insomma, quindi questo, diciamo, a chiosa del ragionamento fatto. Quindi grazie mille per l'ospitalità, grazie della location e grazie della partnership. Chiamerei, dopo ci rivediamo per la Foto Opportunity, dove so che hai preparato un piccolo omaggio per il nostro Leandro, con un pochino di, diciamo, stringiamoci, chiamo il direttore sportivo del Verona Volle, che ci racconta quanto siamo felici di presentare alla città e a tutti i tifosi di WIDU Verona, Leandro Mosca, inciso, campione del mondo di quest'anno. Non possiamo che essere strafelici di avere la nostra Rosa, un giocatore campione del mondo, anche se quando la trattativa è iniziata, e non è iniziata solo quest'anno, perché con Leo si è parlato già dallo scorso anno di poter arrivare a Verona, poi non ci sono state le possibilità, perché aveva già dei accordi precedenti che non ci permetteva di portarlo alla scorsa stagione. Quest'anno, dopo aver chiuso il contratto con lui, è iniziata per lui anche una bellissima escalation all'interno della nazionale, prima in Veonelle e poi ai mondiali, dove finalmente torniamo da veramente grandi campioni, con un Leo che fa parte della Rosa dei campioni del mondo. Siamo stracontenti, siamo felicissimi, abbiamo un atleta molto giovane, di grandi doti fisiche, di grandi doti tecniche, che deve sicuramente affinare con Stoic, sicuramente sarà il compito dell'allenatore di portare al meglio la sua qualità tecnica. Sappiamo che abbiamo un contratto con lui di due anni, che ci permetterà di programmare con lui le prossime stagioni, che sicuramente, spero, sono certo, che non saranno limitati, le due stagioni che abbiamo già contrattualizzato. Con Mosca portiamo l'ulteriore Under 22 all'interno del nostro progetto, come abbiamo già visto nelle conferenze stavate precedenti, continuiamo nella nostra logica di creare una squadra molto giovane, che abbia la possibilità nel corso degli anni di crescere e diventare veramente la squadra che può impensierire tutte le big ed essere pronti per il salto di qualità che stiamo cercando di accorciare nel più breve tempo possibile. Mi riallaccio al discorso che stavi dicendo del settore giovanile con Banca d'Asti. Per noi è un grandissimo onore intanto essere qui presenti nella sede di Banca d'Asti di Verona, ho ottenuto ospiti di un amico, il direttore Pozzani, che è molto legato al volley e adesso ancora di più con questa bella partnership, con un istituto di credito di grande importanza come Banca d'Asti, che ha veramente fatto con noi una partnership che ho apprezzato dall'inizio tantissimo, perché investire delle risorse sulla possibilità di aiutare le famiglie, che in questo momento sappiamo benissimo che hanno mille difficoltà create da altri aspetti nella gestione eventualmente dell'acquisto dell'allaboramento o delle quote per il nostro settore giovanile, è stata veramente una grande idea lungimirante da parte loro, quindi li ringrazio ancora tantissimo per l'ospitalità e per la partnership che abbiamo appena definito. Grazie direttore e senza ulteriore indugio passiamo la parola al nostro Leandro, che abbiamo anche presentato con una piccolissima intervista quando siamo stati in Polonia e amichevoli. Dopo ti lascio in pasto ai giornalisti che sono qui presenti, che ti faranno giustamente le loro domande, ma per rompere il ghiaccio io ti chiederei come ti stai trovando qui a Verona e diciamo come è nata, lato tuo, questa esperienza, no? Cioè quindi la chiamata della WeDU e la tua risposta. Passo un attimo davanti per esigenze di cavo da microfono. Innanzitutto grazie per l'ospitalità e sì, mi sto trovando veramente bene qua a Verona, anche se per adesso solo casa e palestra, avrò il tempo di visitarla un po'. Nonostante la bellissima città. La squadra è incredibile, è giovane, è talentuosa, ha un potenziale enorme e penso che l'abbiamo dimostrato questo weekend al trofeo Story. Non vedo l'ora che cominci il campionato settimana prossima e veramente, sono veramente felice di essere qua. Sì, è nato qualche anno fa, è vero, avevo parlato con Genji un paio di anni fa e poi per altre problematiche o esigenze, alla fine ci siamo persi di contatto, diciamo, e poi ci siamo ritrovati quest'anno e per fortuna. Io sono contento di aver scelto Verona, ecco, tutto qua. Sentite, io farei così, siccome è più bello che le domande le facciate voi e che lui risponda direttamente a voi, se avete già dei contributi da voler offrire a questo momento, dai Matteo. Ciao, Matteo Fontana del Corriere di Verona, intanto mi presento, un piacere, benvenuto a Verona. Naturalmente partiamo anche da quello che ti ha insegnato, che cosa ti ha dato in più questa grande esperienza del Mondiale con una squadra vincente, in che cosa ti ha fatto ulteriormente crescere nella prospettiva della tua carriera e naturalmente nell'immediato per quello che puoi dare a Verona. Guarda, per me era già una vittoria essere parte di quella squadra, poi quello che è avvenuto dopo è stato solo un coronamento di un ulteriore sogno. Era anche un sogno, una cosa incredibile, giocare ad allenarsi insieme a quei ragazzi, perché sono dei ragazzi, secondo me sono degli Avengers, perché sono veramente fenomenali in campo e fuori e ci prendo tanto, ci prendo umiltà, sicuramente, voglia di non solo di vincere, ma di dare veramente, di non lasciare niente indietro e adesso spero che, insomma, vincere piace, mantenersi però difficile, quindi voglio mantenermi, diciamo, sia con Verona e sia magari nel futuro con, di nuovo, con la nazionale e sono felice di rappresentarlo qua, qua a Verona, ecco. Marzio? Domenica inizia il campionato, andate a Piacenza, trovi un tuo ex compagno, Romano, che ha fatto tanto bene il nazionale e Stoic aveva detto, attenzione, Piacenza non è quella che abbiamo visto al Trofeo Story. Tu cosa ti aspetti da questo incontro? Come la vedi, insomma? Non solo Romano, anche Regine e Scanferla, che comunque sono dei grandi giocatori e li incontreremo subito domenica, la prima di campionato e sì, sicuramente non sono quelli, nel senso sono loro, sicuramente non dobbiamo tenerli sotto gamba perché è comunque una squadra ben preparata, diciamo, ha dei singoli di altissimo livello e però io credo che se manteniamo il nostro livello di queste ultime due partite che abbiamo fatto al Trofeo Story e ci mettiamo anche qualcosa di più che è una cosa che possiamo assolutamente fare perché, come dicevo, il potenziale è ancora... cioè abbiamo un margine di miglioramento molto molto alto. Sono sicuro che se facciamo bene, facciamo così, possiamo dare filo da torcere a Piacenza e a tutte le altre big del campionato e sono sicuro che ci toglieremo anche qualche soddisfazione. Faccio una domanda io a beneficio di tutti e anche delle altre emittenti a cui, diciamo, diamo una parte di questo girato. In questa squadra incontri giocatori come Keita o come Shapuskov che non hanno calcato mai il parterre nazionale con cui però stai già giocando e che tipo di impressione ti fa giocare con loro e in generale che tipo di amalgama c'è con la squadra e i tuoi compagni? Giocatori come Keita e Shapuskov veramente se ne vedono veramente poco in giro perché fisicamente sono devastanti e in gruppo, in squadra sono veramente bravi ad essersi integrati nonostante le difficoltà di lingua o qualsiasi altra cosa si sono integrati bene e non hanno mai partecipato a un campionato come quello della Superlega io non ho fatto niente di titolare sono stato due anni a Milano ma ho avuto pochissime esperienze e vedo che loro se giocano così sicuramente incontreranno delle difficoltà perché se non ce ne sono sarebbe tutto troppo facile e sono sicuro che non sarà così dobbiamo essere bravi noi che già abbiamo fatto questo campionato dobbiamo essere bravi noi ad aiutarli mentalmente e di squadra e sono sicuro che loro potranno fare veramente delle prestazioni maiuscole e veramente portarci in alto ecco non solo loro ma anche i vari altri ragazzi come Mosic che ha già fatto un signor campionato l'anno scorso e anche i vari spiriti cortesia assolutamente Corzanov quindi niente ancora non vedo l'ora che comincia il campionato questo ci dà il destro per una domanda al direttore non vorrei sbagliare perché sono confesso di essere impreparato su questo punto ma credo che il roster della UIDU Verona sia uno dei più giovani in assoluto come età media sul palcoscenico della Superlega allora intanto la soddisfazione immagino di averlo costruito secondo quello che è il vostro intendo della società e ci metto dentro anche il coach Rado il vostro obiettivo ma avere un roster così giovane prege difetti insomma intanto si è stato il è il coronamento del progetto che abbiamo iniziato dall'anno scorso che la società condivide totalmente con con lo staff tecnico quindi io avendo fatto anche l'allenatore nel passato ho sempre preferito nella stessa dirigente di condividere totalmente con gli staff tecnici la campagna acquisti poi naturalmente ci sono delle priorità che naturalmente non sempre si riesce a raggiungere quello che si voleva noi quest'anno abbiamo fatto quello che volevamo tranne nessuna operazione ma che abbiamo tranquillamente parato il colpo rispetto alla nostra prima scelta e siamo quindi molto contenti di quello che Roster ci ha della stagione 2022 2023 si è creato e siamo decisi a continuare con questa nostra idea di di creare veramente dei grandi campioni dal nostro da dentro quindi prenderli forgiarli e con loro vincere questo sicuramente è quello che Vrona Volli vuole fare nei prossimi anni certo che andiamo a scontrarci con tutte le squadre di altissimo livello di altissima qualità con dei budget notevolmente superiori ai nostri e proprio per questo noi dobbiamo lavorare tantissimo i ragazzi sono spettacolari perché da subito si sono messi a lavorare a pieno ritmo con il coach hanno sposato questa politica del grande lavoro della grande qualità di lavoro giornaliera e si vedono già i primi risultati che si sono visti nel weekend domenica giocheremo a Piacenza sappiamo benissimo che Piacenza ha delle potenzialità estreme quello che abbiamo che ha dimostrato nel torneo di Montichiari sicuramente il 20% di quello che possono fare però siamo anche consapevoli che il nostro roster può combattere con tutti anche quando loro sono al 100% allora citando il diciamo l'hashtag di quest'anno che è sfoderate gli artigli sfoderate le macchine fotografiche perché il signor Leandro Mosca credo che ci abbia portato qualcosa da far vedere che credo sia diciamo uno io dal vivo non l'ho mai vista non so tu direttore se dal vivo l'hai mai vista allora ecco mettila pure perché te lo meriti diciamo quindi tu sì che te lo meriti mettila appunto lì poi dopo facciamo una bella foto opportunity in piedi magari potete alzarvi e darvi la mano stringervi la mano se avete voglia di fare questa piccola foto opportunity allora se non ci sono altre curiosità io chiuderei la nostra conferenza stampa in maniera vuoi fare una domanda no volevo una foto ok se la medaglia magari me la tiri un po' in avanti perfetto allora mentre Leandro sfoggia giustamente la bellissima medaglia d'oro vinta i mondiali contro la Polonia contro qui ricordiamo anche l'Italia ha vinto Under 20 ha vinto queste sono europei quindi per la Polonia non grandissimo chiudiamo la conferenza stampa lasciando ai colleghi l'opportunità di un'intervista diciamo one to one con Leandro grazie a tutti e alla prossima che sarà ai prossimi appuntamenti giovedì 29 ore 19 presentazione del team WIDU Verona e della stagione 2022 2023 aperta a tutti mi raccomando venite accorrete perché li presentiamo tutti quanti ore 19 di giovedì al Palazzo della Gran Guardia poi da oggi credo Camilla ma lo pubblicizzeremo domani ticket in vendita anzi sono già in vendita i ticket per la prima di campionato in casa che si gioca al giorno 8 alle 20.30 quindi sabato 8 ore 20.30 e seguiteci sui social e abbonatevi a Volleyball World se volete vedere Piacenza WIDU Verona questa domenica o venite a Piacenza grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti